Hai una bassa autostima, magari sei appena lasciata e la vita sta andando a rodoli, hai tutta la mia compassione e empatia, ma ti sto per dire come la risolve questa ragazza, perché le ho dato io degli input e dei suggerimenti, il king della seduzione. Scherzi a parte, se non sai chi sono io, sono Federico Picchianti, l'esperto numero uno in Italia delle relazioni sentimentali, faccio questo da più di sei anni, oltre a mezzo euro di follower, sono tutti i vari social media e laureato in scienze equazione della formazione con 110 e forse l'Odi, sono il fondatore della startup che l'abbia riservato, se non sai cos'è vattela a vedere, forse adesso è chiuso mentre guardi questo video, ma è la startup ovvero progetto dedito alla crescita personale femminile, solo femminile. Ma quindi, questa autostima, che problemi ti sta dando? Come si può affrontare l'autostima? Poi una rottura sentimentale? Insomma, il devasto vediamo questo in questo video, quindi vediamo che cosa ho risposto, come ho suggerito a questa ragazza, magari per riuscire a riprendere in mano la sua vita in seguito magari a un forte caudio di autostima dopo la rottura sentimentale. Tra l'altro, le ho detto quello che faccio io personalmente, quindi condivido con piacere questi processi che utilizzo, queste strategie. Allora, questa ragazza dice già Federico, ho terminato una storia durata 12 anni, mi dispiace, nell'ultimo anno le cose non andavano, tutto si era appiattito, non c'era più la voglia di recuperare nulla, mi dispiace. Ecco che entra a far parte la mia vita un'altra persona dieci anni più grande, ha figli e un matrimonio finito, quando io ho terminato il tutto. Tutto meraviglioso, ci siamo dati una forza incredibile ad affrontare questi mesi di transizione, ma rimanendo sempre in ombra. Adesso si concretizza qualcosa, ma ho difficoltà in gestire la relazione, premento che sono insicuro, la mia autostima non è sempre alta, anzi, penso che tutto spesso ruodi proprio intorno a questa mia scarsa autostima. Come faccio ad acquisire a non essere costantemente bombardata da paranoie? Allora, i videocorsi sono stati fatti apposta, nel senso che i principi di riprogrammazione mentale di cui parlo implicano che tu faccia una ripetizione quasi spastica più che spasmodica dei corsi, ok? In modo tale che il tuo subconscio si riprogrammi e tu possa apprendere tutte quelle che sono le nozioni per trasmetterti, tra virgolette, una visione completamente diversa di quello che è quello che ti circonda, quindi quello che è insomma la tua vita sentimentale, eccetera. All'interno dei corsi trovi tante risposte, tante dissoranze, cose che facevi, che vedi, ah cazzo, questo non lo devo fare, eccetera. Quindi normale. Come si fa a non vivere ossessionati dall'ex e tutto ciò che riguarda la sua vita passata? Da 12 anni, 10 anni e passa, è difficile, è normale, si inizia accettando. Non si può pensare, no, di, ah ho terminato la mia relazione di 10 anni e adesso taglio di netto, a posto mi scordo e vado avanti. C'è chi è in grado di fare questa roba qua, è tosta, l'è dura, non è per niente facile, è molto difficile ed è giusto che sia difficile, perché altrimenti se non fosse difficile tu non avresti, cioè non avresti magari amato tanto, non sarebbe stata tanta, tanto marcata questa relazione, no? Che c'è stavia fa, qualcuno ti direbbe. Quindi è una questione di tempo e di esecuzione. Questa persona mi chiede, ma quanto ci vuole, no, a vivere e a riprendersi dopo? Ci vuole quanto ci vuole, ci vuole che tu inizi ad applicare cose, atteggiamenti che sono funzionali per riprendere in mano la tua relazione alla tua vita sentimentale. Se gli atteggiamenti che metti in pratica sono atteggiamenti disfunzionali che cercano il passato, la conferma del passato, la sistemazione dei problemi del passato, eccetera, non va da nessuna parte. Se gli atteggiamenti che metti in pratica sono volti non al presente, ma peggio, al futuro, quindi gli atteggiamenti che metti in pratica oggi ed esegui oggi come essere umano, sono in virtù di un miglioramento futuro nella tua vita sentimentale, quindi già che sei nel club riservato, già è un miglioramento, quindi già ci stai, ottimo. Allora, quelle nozioni che apprendi, dall'altro sei giovane, perché io sei molto giovane, quelle nozioni che apprendi, ok, sono nozioni che sicuramente ti vanno poi a creare quella stabilità per crearti un futuro migliore, più sostenibile in ambito sentimentale. Non è detto, tra l'altro, che se tu hai queste nozioni, la relazione al 100%, avrai solo relazioni funzionali, non avrai più nessun problema in ambito sentimentale. No, hai l'assetto mentale giusto per affrontarlo, saprai cosa fare e come operare in virtù di mantenerti una relazione stabile e quindi funzionale nel passato del tempo e non devastarla, quindi riprenderla e non mandarla veramente all'aria. Questa è la cosa che devi tenere sempre in considerazione, ok? Per quanto riguarda la preoccupazione delle paranoie della scarsa autostima, io penso, almeno per esperienza personale e poi per quelli che sono gli strumenti che ho messo a disposizione nel club riservato e quindi nei corsi del club riservato, l'innalzamento dell'autostima inizia con l'accettazione della scarsa autostima stessa. Cioè se io provo a scappare dalla mia scarsa autostima, a fuggire dall'idea di essere una persona con bassa autostima, questa idea mi insegue, mi dormenta. Se io accetto questa cosa, addirittura la amplifico, sicuramente mi sentirò meglio, sicuramente inizierò a conviverci e da quel momento si mette tra virgolette insieme e germogliano per far crescere magari quella parte più interessante di me che diventa una parte con una scorza, con un'armatura più forte, che accetta quindi il problema della scarsa autostima che poi in realtà non è più un problema, ma diventa in realtà un tratto caratteristico specifico. Quindi iniziare con accettare l'idea che non è detto che sia sbagliato avere bassa autostima. Se io inizio a ragionare in questo modo, accetto il fatto che questo faccia parte del mio estro, del mio essere, del mio nucleo come essere umano, inevitabilmente lo accetto, quindi questo diventa un potenziante, un potenziale potenziante. Inizia a ragionare in questo modo, i nostri deficit possono essere potenzianti. Non è sempre così, non risolverai sempre così, ok? Per esempio io ho, tra virgolette, io stesso, ok, personalmente vivo, no? I punti dove ho scarsa autostima, per esempio la parte del fitness io la voglio risolvere da tempo, che è una cosa che è un tarlo che è lì sotto, anche altre cose, studi di chimica, eccetera. E comunque, che comunque opero a tenermi in background e che vado a coltivare. Però c'è sempre, no? Abbiamo sempre tutti qualche punto dove andiamo a scarseggiare l'autostima. Inizia accettando l'esistenza di questi, osservali, osserva questa scarsa autostima che hai da fuori come terza persona, lascia che venga osservata l'autostima bassa che pensi di avere e lasciala lì a macerare. Osservala, non cercare di scacciarla né scappare da essa. Questo è quello che ti può consentire, insomma, di divertirla un po' meglio, secondo me.